Il trasferimento di un gruppo di ambulanti del mercato sul Faxal in occasione di alcune manifestazioni previste nei prossimi mesi ha scatenato una protesta arrivata ieri mattina davanti a Palazzo Mercanti. Nei giorni scorsi sono stati comunicati agli ambulanti i trasferimenti sul pubblico passeggio per sei date, 7 e 25 aprile, 2, 19 e 26 maggio, 2 giugno. Con il distinguo però, il 7 aprile, il 19 maggio e il 2 giugno, a spostarsi sul Faxal per liberare l'area ad uso di altre manifestazioni, a giudizio del Comune saranno soltanto gli ambulanti di Piazza Cavalli. Ancora loro, ma insieme ai colleghi di Piazza Duomo, saranno costretti a trasferirsi sul pubblico passeggio per le altre tre date segnate in rosso, con ulteriori infinitesimali distinguo, tipo che per gli spostamenti gli uffici hanno redatto tre graduatorie, il che significherebbe per gli ambulanti un triplice cambio di posizione del tracciato una volta sul Faxal. Gli operatori vorrebbero rimanere nella piazza, tranne eccezioni straordinarie che possono essere rappresentate da date speciali. A fronte di un fatto eccezionale con sei date, abbiamo operato con una risposta sperimentale, è stata la replica dell'assessore al commercio Paolo Mancioppi. Sulla decisione di spostamenti, talvolta parziali e altri totali, Mancioppi risponde, per gli operatori di Piazza Duomo i problemi riguardavano una data o due al più, abbiamo pensato che si poteva lasciarli in sede, per il futuro valuteremo aree più vicine al centro come alternativa al Faxal.